Per carità, splendida la modella 25enne Ivana Marazzova reclusa dentro la casa di Cinecittà, ma possiede un vocabolario tutto suo, già ristretto, a volte incomprensibile. Ebbene la redazione del Grande Fratello ha voluto condividere un videoclip in cui la modella cieca, si esprime in toni piuttosto complicati da capire. Seduta davanti le telecamere del confessionale del Grande Fratello, Ivana Marazzova spara parole come occhio, collirio e aereo, ciucci e sushi champagne e champagne parole che non hanno un senso. Sarà che la lingua italiana è una delle lingue più difficili e dal video si intuisce che la modella non è molto pratica in fatto di pronunce e parole. Scherza, e sorride Ivana Marazzova affermando che con Aida Iespica, formano un dizionario a modo loro. Ivana Marazzova GF VIP che a modo di seguire la diretta del Grande Fratello, avrà notato sicuramente che la Marazzova è un personaggio davvero caratteristico, particolare, a dir poco strano. A tu tu per tu con i coinquilini nel bel mezzo del discorso talvolta anche serio, inizia a scherzare, tira fuori dei vocaboli che lasciano molti dubbi sulla sobrietà della modella cieca. Sembra perfino che prenda in giro i gieffini. Bella, ma strana. Chi è Ivana Marazzova? Ivana Marazzova, classe 1992 originaria della Repubblica Ceca, la sua carriera da modella inizia da ragazzina quando prende parte alle prime sfilate nel suo paese. All'età di 15 anni Ivana lascia il paese per tentare la fortuna altrove. Da qui inizia il suo percorso da modella in giro per il mondo. Dopo aver viaggiato in Europa, la modella si stabilisce definitivamente in Italia dove partecipa come Valletta Sanremo 2012 accanto a Gianni Morandi, torna spesso nel suo paese, perché la famiglia per lei è importante. Non solo i genitori ma anche le due sorelle che adora. Ivana Marazzova e la vita privata Ivana Marazzova tiene molto al rapporto con la famiglia che va a trovare quando gli impegni glielo consentono. Nella sua vita privata al momento non sembra esserci nessuno, soltanto un adorato cagnolino. Ma non esclude un giorno di crearsi una famiglia tutta sua. Il suo sogno non è il lavoro da modella bensì aprire un ristorante, un posto dove poter vivere con la sua famiglia e con marito e figli.